Senza anticipi al sabato, la terza giornata di eccellenza, domani vedrà il Ponte Vomano fare visita allo spoltore. Terramagna alla ricerca dei primi golle della prima vittoria stagionale, come gli Asulgrana che vengono da due pareggi. Reduce dall'importante vittoria esterna a Penne, l'Alba Adriatica andrà a far visita alla Torrese. I Rossoverdi hanno ottenuto un successo e una sconfitta finora, mentre i Giallorossi, dopo il pari di Cupello, vogliono ritrovare la vittoria fra le Muramiche. Dopo il successo esterno infrasettimanale con il Capistrello, il Nereto ospita la RC Angolana. I Pescaresi arrivano dalla vittoria sul Delfino Flacco Porto, mentre i Rosso Blu, dopo un pareggio e una vittoria, cercheranno di allungare la streccia positiva. Dopo il pari interno con lo spoltore, il Martinsicuro se la vedrà nuovamente tra le Muramiche, al Tom Molini, con il Penne. I ragazzi di Mister Di Fabio, dopo aver subito sette gol in due gare, vogliono la prima vittoria. Per la seconda giornata di promozione, invece, il Borgo Santa Maria, alla ricerca del primo cabottino pieno, ospita il Montori 88. Il Morro d'Oro riceve lo Sport in Celano per la seconda vittoria, il Mociano va nella Marsica per affrontare il Prucetta, con entrambe le formazioni alla ricerca del loro primo gol. Il Real Treciatria ospita l'Angizia Luco e la Rosetana nel Piano della Lente, mentre il San Gregorio fa visita alla Nuova Sant'Egidiese in quello che potrebbe essere il match clou di giornata. Il Sant'Omero ospita il Fontanelle, per capire meglio le sue ambizioni, il Castelnuova va al torno in parte e il Tossicia riceve il Mutignano per trovare i suoi primi punti stagionali.